Ideato da Terre dei Savoia, il Muses Accademia Europea delle Essenze è un polo tecno-sensoriale nato per celebrare il mondo delle erbe aromatiche e delle essenze. Qui, nell'aula didattica sensoriale, si possono imparare le arti della creazione di una fragranza o di un cosmetico naturale, ma anche scoprire i segreti delle erbe aromatiche e il loro uso nella produzione agroalimentare. Il Muses ha sede a Savigliano, presso il seicentesco Palazzo Taffini, un edificio centrale nella storia della città, e si propone come casa del territorio, aperta ai sapori e ai saperi dell'Europa, in un viaggio tra arte profumiera ed esperienze sensoriali. Il Muses completa il suo percorso con Essica Lab, frutto del progetto Essica Interreg Alcotra, è un innovativo laboratorio aperto alle aziende del territorio e dedicato alla trasformazione delle erbe aromatiche e dei prodotti agroalimentari. Grazie. 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 Grazie.